Non riesce, passaggio in avanti verso Inzaghi, è ripartito Cassano, vola Lima in posizione di alla sinistra, non lo ha fermato Ricosta, dall'altra parte c'è Montella, insiste Lima, Lima, palla dentro, colpo di tre, il giro di Tommasi, Tommasi ha raddoppiato sul cross di Lima il 2-0, firmato Tommasi, premiato per l'azione del primo gol, Damiano Tommasi che ha realizzato il suo secondo gol in campionato. Veramente Tommasi secondo me è stato il migliore in campo per la prestazione, per essere stato l'incontrista ed essere stato sempre il primo a ripartire, guarda come parte da lontano, vede l'evoluzione dell'azione, Lima fa una grande azione, c'è stato il movimento di, guarda il movimento per andare in conto di Montella, lui è liberissimo, non era così semplice ma si è fatto trovare ancora una volta sul centro-destra, è andato a concludere, si meritava questo gol, bravissimo Tommasi. La schiacciata di Damiano Tommasi è il premio più importante per il gol del 2-0, firmato dal centrocampista, cresciuto nel Verona, eccolo qua, il colpo di testa di Tommasi che era anche diventato capitano dopo l'uscita di Francesco Totti, nulla da fare per Dida, pallone schiacciato a terra, tra l'altro arrivava da lontanissimo, Tommasi era partito con parecchi metri.